Via Libera al Bando per la gestione temporanea dei campetti di calcio di via Montegrappa a Faiano e di Parco Padre Pio, situato nel quartiere di Sant'Antonio. Le due strutture saranno affidate dall'1 marzo al 15 settembre ai soggetti che prenderanno parte alla manifestazione di interesse aperta alle associazioni sportive, culturali e agli oratori parrocchiali in forma singola o associata, che siano costituite da almeno un anno dalla data dell'avviso. Chi vorrà presentare domanda, oltre a dover avere sede legale nel comune di Ponte Cagnano-Faiano, dovrà dimostrare di svolgere la propria attività senza fini di lucro. Escruse dal Bando le organizzazioni che hanno contenziosi legati all'utilizzo delle strutture sportive collente, mentre sono ammessi i soggetti che stanno sanando la loro posizione nei confronti di palazzo di città attraverso dei piani di rientro. Scadenza della manifestazione di interesse il 15 febbraio alle ore 12.